25.000 mi piace e faremo un 3 vs 3 con le calciatrici in Villa Elitze Bene ragazzi carichi come non mai da più sgamer Oggi ragazzi siamo qui in piscina in Villa Elitze Sì Obbligalo Deus Ragazzi oggi siamo con delle ospiti speciali ovviamente oltre agli Elitze che oramai non sono più portali Non sono più speciali No Beh ciao alla prossima Ma no Omar dove vai? Loro sono delle calciatrici del Napoli femminile quindi veramente tanta roba Farei un applauso per loro subito Brave Ragazzi vi dico che abbiamo registrato anche un 3 vs 3 contro di loro E se arriviamo a 25.000 mi piace ve lo esco cioè il video Come non lasciarli allora Quindi raga non ci perdiamo in chiacchiere oggi andremo a fare la rovesciata challenge appunto con loro Avete mai fatto rovesciate in piscina? Sì Ovvio Beh giocare a calcio Piscina Piscina Quindi vai giù andiamo a rovesciare Sì Tati sei pronto? Però allora la regola è importante cioè non si può tirare a QC Un minimo di acrobazia Di acrobazia Un po' di schi... Almeno 4 skills Vai 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 Tati Adesso sei pronto Tati bravo Harry adesso deve essere seria Vabbè Harry però dai Porca miseria Mi fa un anerottolo di merda Ma Tati 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 Lo tsunami Era lì io so qui Buu Come lo va Come lo va Come lo vado È una buona È una buona Un applauso anche a Enrico Vabbè era buona Era buona Era buona Sara presenta ti devi dire qualcosa Ciao sono Sara Quanti anni hai? Buongiorno Ci troviamo in pista Sono scarsa Faccio quello segno Vai siamo con te Questo è lo spirito Oh nooo E' lui Chi se l'ha rovesciata? Dov'è andata? Su Marte è andata Vai prossimo tiro per Sara Bello 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 Anto Un attimo che mi riscaldo Anto aspetito una patta Vai Anto Aspeta aspeta Anto Porca troia Eri sei proprio un mattacchione 3 2 1 Si Anto bello Va bene mister Va bene mister Amma dici qualcosa E' importante Qualcosa Anto Vuoi fare gol? Mi ha motivato ragazzi Fai gol Vai Anto Forse Bello Corso Vai cazzobomba Un po' troppo alto eh Ribero così Anto quanto costi? Anto Antonio costa se lo volete 20 euro compresa a spedizione Se lo volete Ecco qua Ragazzi adesso arriva Aurora e ci delizierà con un suo spettacolo teatrale Tati però servi tu vieni qua Aurora e tu fai gol Poi dopo ti tolta il calippo Ratino ma vai via Ci delugiano per molestio Vai 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 Buona Ha lasciato l'incrocio Hai pensato il gol rovesciato C'è il più bello di sempre Quello è fondere di Dagi Eri vogliamo una palla perfetta come prima Eccolo Nessuno ancora ha fatto cura Mi sa che arrivai del momento Mamma è Andree Ma dove stai guardando? Ma dove stai guardando? Ma dove stai guardando? Ma dove stai guardando? Ma madre è una brava signora Non ha spinto pure bene Non sono stato di quel cazzo vuoi Un genio del crimine Ti sei divertito? Fate lo stesso E' nulla raga Prossimo tiro lo faccio Il mio pollice non lo fa Mi gioco 100 euro Vai Andree Vai Oh Bello Il più bello di tutti questo E' morto Quasi schiattata Un altro tiro vi prego No Non lo prego Ma se no mi rompo qualcosa Però devi dire come ti chiami Angelica Ho detto cozzo bomba Cozzo bomba Nel 19 anni difensore Ma mi rompo qualcosa Let's go Robo 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 Credo che oramai la challenge non sia diventata chi segna si qualifica ma chi segna vince direttamente la challenge Angelica Ci riprova Te streggiati Hai il riscaldamento questo Vai Uno Eccola Oh Parca brava Non è possibile Ho segnato No Ho segnato E' la strada giusta per segnare Chapeau Chapeau Tre Uno Ma la botta Dove è volato la prima cosa È morto un uccellino Porco cane Uno deve segnare Oma al parte lo stesso Eccolo qui Ha detto segnare Omar Io l'ho detto che segnare Il Ravennate Io l'ho detto che segnare Per il Prime Per il Prime E' asciutto pure a sola Elisa 18 anni Napoli ci provo Vai Elisa Ha preso al volo Ok valla a volo Non ci sono Non vale queste Non vale Non vale Non vale Raga ma questa è a casa nostra Nella sputano nella piscina Vabbè Ha fatto come il verso Guardate che invita da Tino Guardate No Ma se l'ha fatto home Secondo me farà come te home Secondo tiro goal Guarda qua Eri dai la palla perfetta Oh Ma questa è apprendibile Eri ma come l'altro Ma è apprendibile Vedo che le vuoi fare Madonna non ci credo Non mettimi che in uno dei due tiri Farai la rovesciata Poi po' come si deve Vai Sì o no Vai Eri fai gol Uno Dos Tre Signora Eri presentati Il primo tiro è dato veramente una merda Sto sopra l'albero Ora per lo prendere i gol Sei Vai Eri Era il baseale We go Come l'ha impattata Chi lo dedichi Ah Raffa le out Sì sì ci segue sempre Come pensavo di dedicarsi a tua madre Quale lì 16 anni Sono attaccante Dobbiamo togliare Bravo Let's go Boom Dammo fallo il bull Bull Ok Stai rappresentando le ragazze Che ancora non hanno fatto il bull Eri abbiamo ballato posto Quindi Vabbè Eri ommo Anche loro Un ragazzo È un vissi No No Non è caduto Non è caduto No Non è caduto No Uno 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 Ti Onis Io ti farò Che vuoi fare Non è successo No Come prima missione Prova al sopravviare Questa volta ti farà Se ci riesci Prendi la palma Seconda cosa Guarda la cam Presentati Vai Un'altra volta È importante Vai Sono Denise, ho 17 anni, attaccante Allora Denise, questo è il secondo tiro All'azione Eccolo Viva le donne Esatto Scusate l'erba Ma se no mi stava chiedendo Vaiu avete visto Vaiu, loro sono i finalisti Mi prega che sono riusciti a fare un gol Nessuno ne ha fatti due Io Quindi nessuno sarà avvantaggiato in questa qualificazione Chi vincerà? Chi lo sa? Lo vedremo tra poco Su Italia 1 Io sono il primo dei tre ragazzuoli Un tiro a testa Chi segna va avanti Vai Om Om dimmi dove la vuoi A che altizza? Qua Anto Andi avanti però Voglio assodiciare bene Anto Vai Anto E' uscito il sole Om per te c'è sempre il sole Omar Bravi Bello Tuttane porto Omar bronze Denise Già sai cosa fare Segna per noi Segna per noi Dotta la rete Eccolo No No Come al solito Vincerà Harry Potrà vincere Harry Che segna Harry ha vinto come al solito Se non segna? Se non segna si va ancora avanti Eh quindi Harry dove la vuoi? Come arriva arriva io impatto giusto Oh Adesso sbaglia Uno Dos Tre Oh Anto Si Anto Wanted Wasted Vabbè Secondo tentativo ragazzoni Secondo giro Vai Om 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 e merda Vai Anto Vai Om Om e merda Bravo Harry Sportivo Sportivo sempre Sempre Vai Gigi Uhhh Anto Harry Di nuovo match poi Sensazioni Adesso vi faccio vedere Tiro dell'estate E il tiro Del 22 Mi sento come l'Italia Grande Harry Vi faccio vedere Pronto Eccolo Harry Lanza Porca Vai U Il vincitore Sono io Bravo Harry Grazie Ragazzi Questo video Finisce qui Lasciate tanti Mi piace Perché A 25.000 Mi piace Vi porteremo Il 3 Versus 3 Il continuo Su un altro sito Vi lascio in descrizione L'instagram delle ragazze Quelle degli elizzi No Lasciate un bel mi piace Per il commento Iscrivetevi al canale No ci vediamo Nel prossimo video Vai ragazzi No ci vediamo No ci vediamo